signori buongiorno e bentornati sul canale del master kai io sono il master kai il vostro ospite su questo canale e anche questa settimana continuiamo a parlare dei personaggi giocanti e di tutto quello che gli ruota attorno nella realtà e fittizia di una campagna il mese scorso abbiamo parlato della fazione dei giocatori da un punto di vista di utilità all'interno della storia questa settimana riprendiamo l'argomento ma andiamo sul tecnico per vedere come organizzare e caratterizzare la fazione all'interno della quest vera e propria prima però una comunicazione di servizio perché in molti me l'avete chiesto allora le copie dell'edizione di scrivi la tua avventura quelle stampate per l'edizione speciale sono andate esaurite ne rimane ancora qualche copia in giro adesso vedremo bene se riusciamo a distribuirlo magari la useremo per qualche evento comunque se volete acquistare il libro adesso è disponibile in realtà da qualche settimana la versione in print on demand vi lascio il link sotto e a questo punto lo lascerò sotto ogni video se siete interessati andate direttamente lì sotto e faccio già che dirvelo ho deciso che almeno la mia parte dei ricavati da quelle vendite andranno direttamente a sovvenzionare il canale perché oramai dopo 8 anni l'attrezzatura comincia a fare le bizze quindi nel caso è un modo che avete per contribuire direttamente qui alla baracca detto questo torniamo a noi questa settimana andiamo a parlare dei png che formano la fazione dei giocatori e andiamo a vedere nel dettaglio come organizzarli e come fare in modo che tornino utili alla quest come ho detto all'inizio questa settimana andremo a vedere le cose un po sul tecnico se volete una trattazione più in generale vi lascio linkato qui sopra il video del mese scorso dove abbiamo parlato in maniera più tranquilla e più per i non addetti ai lavori non starò a ripetermi quindi se non l'avete ancora visto vi consiglio andare a recuperare quello ora iniziamo col dire che esistono tre livelli di dipendenza dei png dai personaggi giocanti ora in questo video utilizzerò quella che è la nomenclatura standard di dnd in realtà giochi diversi regolamenti diversi usano termini diversi e ci sono anche convenzioni diverse in realtà useremo questi termini giusto per avere una coerenza interna nel video e capire di cosa stiamo parlando quali siano i nomi esatti in realtà non è così rilevante è benissimo possibile che il gioco che usate voi usi termini diversi o non usi neanche dei termini per definire queste cose comunque questa categorizzazione prevede di dividere i png utili al party in tre categorie seguaci gregari e alleati e la prima distinzione da fare è che mentre gli alleati sono di per sé dei png del tutto indipendenti ma che per motivi di trama sono particolarmente vicini ai personaggi giocanti e svolgono anche delle funzioni importanti di supporto al gruppo dei giocatori seguaci e gregari sono a vari livelli controllati dai giocatori di conseguenza vanno a creare delle sorte di personaggi gestiti in maniera ibrida tra i giocatori e il master o delle vere e proprie appendici dei personaggi nella maggior parte dei casi abbastanza auto evidente entro quale categoria un png ricada e non c'è neanche bisogno di avere una distinzione così rigida però tenete a mente che questa dicotomia esiste quando parliamo dei seguaci si intende in linea di massima tutti quei png minori che ruotano attorno ai personaggi giocanti ma che in linea di massima non sono singolarmente particolarmente importanti per la storia la maggior parte dei seguaci esisterà per giustificare singoli elementi intrinseci all'ambientazione ma probabilmente non avrà neanche un reale scambio di battute una reale interazione con i personaggi giocanti volendo mantenere gli esempi fatti nei video precedenti i seguaci rappresentano l'equipaggio dell'astronave o gli uomini che sorvegliano le mura del castello il master probabilmente quando descriverà gli ambienti di gioco farà riferimenti al fatto che questa gente va avanti indietro eseguendo le loro mansioni e serviranno come elementi di caratterizzazione ma nella pratica probabilmente non avranno mai una reale influenza nel gioco se non per sottolineare eventi con la loro presenza assenza o comportamento quando il castello viene attaccato il master descriverà come tutte le guardie accorreranno sugli spalti ma poi saranno le azioni dei giocatori a decidere se l'assedio verrà respinto o meno volendo dare una definizione diciamo appunto che i seguaci sono tutti quei png che esistono perché la logica del mondo impone ci sia della gente ma non hanno mai un singolare impatto sulla storia o sui personaggi i giocatori difficilmente avranno mai un controllo diretto su questi png ma quando i loro personaggi nel mondo di gioco dicono che bisogna fare qualcosa quasi sempre saranno proprio questi png a farlo come abbiamo detto la scorsa stagione quando abbiamo parlato in generale di fazioni voi come master non dovreste preoccuparvi di dare una descrizione o una caratterizzazione singola ma creare qualcosa di generale che li definisca come gruppo o come gruppi se ce ne sono di tipi diversi in modo da avere una risposta pronta in caso di interazione ma risparmiare il vostro tempo per caratterizzare meglio personaggi più importanti di questi i gregari al contrario sono invece dei personaggi veri e propri che hanno un loro nome una loro caratterizzazione e probabilmente anche degli ideali e delle motivazioni indipendenti da quelle dei personaggi ma che comunque per un motivo o per l'altro sono sotto il controllo più o meno diretto da parte dei personaggi giocanti in questa categoria ricadono tutti quei png che per un motivo o per l'altro seguono il party per in base alla trama alla storia alla funzione che hanno ma anche tutti quei personaggi che sono sotto il controllo di un personaggio per quanto riguarda decidere le loro azioni ma questo controllo può essere soggetto o meno alla revoca da parte del master e potenzialmente anche se si tratta di casi estremamente limite tutti quegli oggetti senzienti compagni vincolati voci disincarnate che parlano i giocatori tutti quegli altri elementi di gioco che sono più che altro bonus meccanici ai personaggi ma che hanno una loro personalità che il master deve rendere in gioco molto spesso le azioni dei gregari sono controllate direttamente dai giocatori ad esempio saranno i giocatori a muoverli durante il combattimento e a decidere quali saranno le azioni che faranno in linea di massima anche quando il party è a riposo comunque non è in una situazione di pericolo immediato ma questo li potrebbe rendere delle sorte di personaggi giocanti secondari ci sono però delle notevoli distinzioni la prima e più importante che ovviamente loro non sono il punto di vista della storia che è la caratteristica indispensabile per essere un personaggio giocante la seconda è che per quanto magari sono controllati dai giocatori difficilmente sono stati creati da loro comunque strutturati interamente da parte del giocatore o dei giocatori che li controllano e per quanto il giocatore né controlli le azioni tutte queste azioni sono comunque soggette all'avallo anche solo implicito da parte del master in parole povere se il guerriero del party decide di saltare in mezzo al pericolo rischiando la morte ogni 10 minuti perché questo è quello che diverte il suo giocatore il master non può dirgli niente e la volontà del giocatore muove il personaggio come vuole ma se questo comportamento venisse fatto intraprendere al mercenario che segue il party come gregario il master dopo un po' potrebbe dire che no il mercenario non ci sta a rischiare la vita e quindi decide di lasciare il servizio del party ora qui bisogna anche poi fare una piccola digressione perché in realtà i gregari nel mondo trad non sono molto diffusi sì magari il master aggiungerà un png al party nel caso i giocatori siano troppo pochi e quindi potrebbero verificarsi gli squilibri di gioco o magari per specifiche condizioni in specifiche questi personaggi avranno un gregario che devono scortare cose del genere ma in realtà si tratta di un aspetto molto secondario del gioco e intere campagne possono essere giocate senza dei gregari appaiano mai al contrario sono estremamente diffusi nell'ambiente osr dove è considerato abbastanza normale che il gruppo dei giocatori si porti dietro anche una mezza dozzina tra braccianti che spostano la roba mercenari che combattono e formino una sorta di piccola unità di militare d'elita attorno ai giocatori nell'osr però tutti questi personaggi vengono definiti i seguaci non i gregari e che invece nel trad come abbiamo visto prima rientra in un'altra categoria di png è semplicemente una diversa convenzione di nomenclatura come dicevo all'inizio non è importante però voglio dirlo esplicitamente perché so che tra di voi c'è anche molta gente che viene dall'ambiente osr quindi magari tutto questo discorso poteva lasciarli confusi mettiamola così l'ultima categoria quella degli alleati e l'insieme di tutti quei personaggi su cui i giocatori non hanno alcun controllo e che i loro personaggi possono influenzare come qualunque altro png dell'ambientazione ma difficilmente gli possono dare ordini o costringerli a fare qualcosa se non dopo specifiche prove in base alla meccanica del gioco ma che comunque sono estremamente rilevanti per come i giocatori conducono i loro png o per la trama in generale e sono utili al gruppo di gioco nel video sulle origini dei party ve lo lascio qui se dovete andarlo a ricoperare abbiamo parlato del mentore cioè quel personaggio che dalle missioni finanzia o comunque è la mente dietro le azioni del party quello è un classico esempio di alleato un altro esempio molto diffuso è l'archetipo chiamato la principessa che rappresenta tutti quei personaggi che bisogna in qualche modo sbloccare per poter accedere alle loro abilità o al loro aiuto in campagna il nome deriva dalla classica trama del bisogna salvare la principessa rapita in modo da avere la riconoscenza del re non fatevi però ingannare dal nome può essere qualunque cosa molto banalmente anche solo un png che si rifiuta di lavorare per i personaggi giocanti a meno che questi non facciano per lui una quest o non lo paghino in qualche modo un qualche oggetto che devono procurarsi esistono in realtà decine di archetipi possibili per i png alleati più avanti probabilmente faremo un video per vederne alcuni più principali più interessanti per ora limitatevi a considerare che sono dei png rilevanti per la storia come tutti gli altri ma con la specifica differenza che la loro funzione all'interno della storia è quella di aiutare e favorire il party andranno caratterizzati singolarmente tanto quanto tutti gli altri png che presentate normalmente ovviamente parliamo di personaggi utili al party e rilevanti per la storia l'investigatore privato che fornisce informazioni al party in cambio del loro aiuto nelle sue indagini probabilmente un png alleato il tizio che hanno fermato per la strada per chiedere informazioni sul posto dove devono andare quasi sicuramente no quando si parla dei vari png che seguono il party comunque ci sono un enorme quantità di altri troppo che entrano in gioco che dipendono sia dal tipo di gioco sia dallo stile del gioco di riferimento del genere a cui il gioco il riferimento appartiene quindi il discorso sarebbe estremamente ampio e andrebbe al di là degli scopi di questo video alcuni di questi troppo li abbiamo visti nel corso delle stagioni precedenti probabilmente ne vedremo altri più avanti anzi magari un video a riguardo potrebbe essere qualcosa di utile comunque questa settimana terminiamo qui perché questo voleva essere un discorso tecnico per compensare settimana prossima ho deciso di riprendere la rubrica dello scrivere una quest che quella più trascurata al canale per portare un esempio pratico di quello che abbiamo visto in questo video nel precedente cioè andrò a prendere una fazione dei giocatori che ho effettivamente sviluppato per una campagna e tra l'altro sto attualmente giocando illustrare alcuni personaggi importanti per farvi vedere proprio nella pratica come tutti questi concetti poi vanno a mettersi assieme e la settimana dopo ancora che sarà natale come la tradizione parleremo invece del rovescio della medaglia andremo a vedere come organizzare gli antagonisti dei giocatori per questo video invece è tutto come sempre adesso la parola sta a voi ditemi se anche voi organizzate i png in questo modo avete un altro modo non avete mai sentito la necessità di organizzarli e perché se il video vi è piaciuto lasciate un like e condividete il canale iscrivetevi e schiacciate la campanella se volete ricevere le notifiche se le notifiche non vi arrivano in descrizione trovate i link dei social del canale dove metto io le notifiche manualmente io sono il master k e noi ci vediamo al prossimo video